Dopo le dimissioni in blocco di tre soci del Campobasso con tanto di comunicato stampa inequivocabile diffuso nella mattinata di ieri, qualcuno non ha esitato a parlare di caos societario in seno al Campobasso. Situazione tuttavia smorzata dal patron Agnello Aliberti, da noi sentito telefonicamente, il quale non ha fatto una grinza di fronte a tali uscite di scena. Tra l'altro i disaccordi sul progetto tecnico erano comunque un fatto datato e suffragato dalle dimissioni di Audiello, Pugliese e Pietro Cola solo nella giornata di ieri. Aliberti annuncia che arriveranno nuove figure imprenditoriali a rilevare il 30% di quote che ad oggi resta scoperto. Si sta muovendo già qualcosa in tal senso. Entro la fine di settembre dunque ci aspettiamo che il Campobasso possa avere una compagine societaria definitiva con soci che possibilmente remino tutti nella stessa direzione e condividano il progetto messo in campo da Aliberti. Rimane nell'organigramma Rosso-Blu Biagio-Merola come delegato al settore giovanile del Campobasso. La Juniores e sono voci di corridoio dovrebbe essere guidata da Giovanni Piccirilli, storico collaboratore del Mirabello Calcio. Voce questa che deve trovare conferma. Aliberti si è soffermato anche sull'organico da ritoccare con elementi che appaiono indispensabili. Il patron non getta la spugna per Carrus che nei giorni scorsi ha comunque riguadagnato la strada di casa. Il regista Cagliaritano ha delle esigenze familiari particolari avendo tre figli piccoli. La dirigenza Rosso-Blu sta cercando un alloggio confacente alle necessità di Carrus, il quale, a detta di Aliberti, ha voglia di giocare con il Campobasso. Dobbiamo dedurre che l'accordo di massima con il giocatore ci sia e che una volta superate queste difficoltà logistiche, Carrus sarà del Campobasso. Altrettanto palese la necessità di una punta. Aliberti ci ha confermato la trattativa in corso anche con il fratello di Improta Giancarlo. Sta di fatto che domani il Campobasso si presenterà a Pineto con tante seconde punte. Giocheranno infatti Sudant, Mulatero e Improta, ma soprattutto con pochi ricambi a disposizione. Ricordiamo che rispetto alla gara di Coppa Italia mancheranno Perrella per infortunio e Lucchese che ha preferito fare le valigie. Fuori causa per mancanza del transfert i tre stranieri del Campobasso, Birane, Chimpala e Torvic, quest'ultimo è difensore centrale in prova da qualche settimana e gradito allo staff tecnico. Insomma, uomini contati per Novelli che manderà in campo una formazione praticamente analoga a quella di Coppa di Domenica contro la Civitanovese. Una sorta di Campobasso bebi in attesa che arrivino i pezzi giusti a completare la rosa. Sembra però che questa attesa non abbia mai una fine. Domani allo stadio Pavone Mariani di Pineto a partire dalle ore 15 dirigerà la gara il signor A Canfora di Castellammare di Stabbia.